Un'altra fantastica notizia per tutti gli appassionati tifosi dell'Inter. Direttamente dal Giappone, il nostro amato club, comandato da Simone Inzaghi, ha mostrato tutta la sua brillantezza e forza in una spettacolare vittoria contro il Paris Saint-Germain. Quanta emozione, amici miei! È inquietante! Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità della squadra nerazzurra. Simone Inzaghi ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza del duro lavoro e dell'unità di ogni giocatore. È normale che vediamo la luminosità tra oggi e il 19 agosto. Queste parole riflettono la fiducia e la determinazione che il nostro team ha nel raggiungere la gloria. È stata una partita mozzafiato, dove abbiamo affrontato un avversario tecnico e forte. All'inizio abbiamo attraversato delle difficoltà, ma la determinazione e l'organizzazione hanno prevalso e la svolta è arrivata con tutto. Con un emozionante orogolo di vitina, i nostri cuori si sono riempiti di gioia e orgoglio per la nostra squadra. E il lavoro non si ferma qui, quando torneremo in Italia, la squadra continuerà a lavorare sodo e con un luccicchio negli occhi. I carichi di lavoro saranno impegnativi, ma con la dedizione e l'impegno dell'equipaggio, il successo è solo una questione di tempo. La condizione dei nostri giocatori è attentamente monitorata dal 13 luglio e il lavoro di squadra è visibile ogni giorno. Simone Inzaghi non nasconde la sua soddisfazione nel vedere gli sforzi dei ragazzi. Si sono dedicati anima e corpo, e questo ci riempie di fiducia e speranza per la stagione. L'energia contagiosa dei tifosi, unita all'impegno dei giocatori, ha reso questo tour un'esperienza memorabile. Il caldo intenso non poteva competere con la determinazione dell'Inter. E ora, cari tifosi nerazzurri, contiamo su di voi per condividere nei commenti le vostre opinioni su questa notizia. Vogliamo conoscere le tue aspettative, le tue vibrazioni e il tuo supporto incondizionato per il nostro team. Insieme, siamo una forza inarrestabile alla ricerca della gloria. Quindi, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di lasciare un mi piace al video per mostrare al mondo la nostra passione per l'Inter. Rafforzando sempre di più questa famiglia appassionata. Forza Inter!